L'Università di Padova ha avuto il suo periodo d'oro con Andrea Vesaglio. Andrea Vesaglio arriva a Padova nel 1537 e trasforma l'insegnamento anatomico secondo quella che è la sua interpretazione di elementi culturali, di elementi pratici, di elementi pedagogici. Si pone come un innovatore in quanto imposta la lezione di anatomia direttamente sul cadavere con un coinvolgimento diretto degli studenti delle varie nazioni che partecipavano alla loro formazione nell'Ateneo Patavino e li coinvolge eseguendo personalmente la dissezione del corpo umano, dissecando, parlando, spiegando ed indicando, portando a un'innovazione che è quella del coinvolgimento diretto del docente e dei discepoli. Andrea Vesaglio svolgerà il periodo migliore della sua attività didattica, pedagogica nel contesto delle scienze naturali, delle scienze dell'uomo, proprio qui a Padova, dove nasce il suo capolavoro, il Diomani Corporis Fabrica, che però porterà in pubblicazione oltre altre, andando dal editore Oporinus e portando a diffusione europea quello che è stato il suo Magistero Patavino. Andrea Vesaglio è un innovatore soprattutto perché lavora sul corpo umano personalmente, recependo le basi galeniche della conoscenza anatomica e medica, ma reinterpretandole alla luce della trasformazione che sta avvenendo del umanesimo e del rinascimento in tutti gli ambiti delle arti. Andrea Vesaglio è il primo dei grandi nomi che caratterizzano l'età d'oro dell'anatomia Padovana. Ci saranno Rialdo Colombo, Gabriele Falloppio, ma ritengo che sia particolarmente significativo il quarto dei grandi anatomisti dell'epoca d'oro, Fabrizio d'Acquapendente. Fabrizio d'Acquapendente è il professore di anatomia che più a lungo insegnerà nel passaggio dal 1580 fino all'epoca della sua morte nel 1619 ed infatti ricorrono quest'anno i 400 anni dalla sua scomparsa. Fabrizio d'Acquapendente imposta il suo Magistero con un insegnamento pratico in un teatro anatomico che diventa proprio polo di attrazione della componente studentesca dell'Ateneo e d'altra parte incomincia a preparare un'opera grandiosa che invece scomparirà per numerosi secoli. Le tabule picte furono riscoperte da Sterzi all'inizio del 1900 e le tabule picte in folio rappresenteranno l'edizione a colori di un'anatomia che si arricchisce di tutte quelle componenti naturalistiche e di interpretazione artistica attuale. L'Ateneo di Padova nella sua storia ha quindi questi grandi anatomisti che hanno costituito attrazione per popolazioni studentesche da tutta Europa. L'anatomia qui viene interpretata in maniera laica perché è una presentazione del corpo umano nella sua realtà morfologica naturalistica e finalmente libero da tutte quelle vincoli che culture religiose avevano aggiunto all'esperienza pratica aristotelica. Per ciò che riguarda la continuazione di questa attività anatomica di formazione dei medici di questo Ateneo la figura di maggior prestigio che seguirà è Giovanni Battista Morgagni. Giovanni Battista Morgagni dal 1711 al 1771 per un periodo lunghissimo fa quel collegamento tra anatomia e funzione, tra morfologia e alterazione di funzione che sarà poi il germe che darà origine all'anatomia patologica, le basi morfologiche della sintomatologia clinica che poi sarà quella che potrà realmente essere rilevata dal medico, dal clinico che deve porre diagnosi.